Buongiorno a tutti, mi chiamo Francesco Siccardi, sono un medico omeopata nemaniano di Savona e sono qua per invitarvi tutti voi a firmare la petizione sul sito www.omeocom.it un comitato nato in difesa per la medicina omeopatica a firmare appunto questa petizione affinché si possa continuare a reperire il rimedio omeopatico in farmacia questo perché? Perché in Italia, a differenza di altri paesi europei i costi di registrazione dei rimedi omeopatici sono saliti alle stelle, hanno costi esorbitanti per cui le aziende non riescono più ad assicurare la reperibilità di tutti i prodotti che sono stati usati finora quindi invito tutti voi, medici, pazienti, farmacisti, tutte le persone che hanno cura al futuro della medicina omeopatica in Italia a firmare questa petizione, ripeto, su questo sito www.omeocom.it questo comitato nato in difesa di medicina omeopatica affinché si possa continuare ad avere una libertà di scelta terapeutica si possa continuare ad esempio a curare i bambini senza farmaci e tutte le persone che lo desiderano e che desiderano curarsi in modo olistico, in modo naturale a continuare a reperire i rimedi omeopatici vi ringrazio e spero che firmiate in numerosi grazie 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 grazie